Musica Più bus in circolazione, aumento del numero delle fermate, informazione chiara sui passaggi ed orario prolungato di metro e funicolari. E Bus by Night, il nuovo servizio notturno messo a punto dall'assessorato alla mobilità insieme ad ANM e Metro Napoli, per rispondere alle esigenze di chi si sposta di notte. Dal 7 dicembre per tutta la settimana, da lunedì alla domenica, invece di 7 saranno impiegati 15 bus su 7 linee notturne denominate da N1 a N7. I collegamenti toccheranno i principali punti della città con oltre 130 corse a notte invece delle solite 90 e le frequenze sono garantite dalla mezzanotte fino all'alba. Sulle linee e le fermate N1 ed N3, la notte del 7 dicembre, gruppi musicali aglieteranno il viaggio del popolo della notte. La vita della città è di 24 ore, quindi rafforzamento dei bus per tutta la città, di notte fino all'alba, un grande sforzo organizzativo ed economico. Ringraziamo l'azienda di mobilità, le lavoratrici e i lavoratori, questa è una grande opportunità per i napoletani e per i turisti nel periodo natalizio, a cui si aggiunge poi uno sforzo con Metropolitana, insomma stiamo facendo cose importanti in un momento di grande difficoltà economica. Facciamo quello che è possibile in tempi di risorse scarse e di tagli al trasporto pubblico locale. Il tutto è un efficientamento interno alle aziende, cioè non ci costa risorse, ma con questi servizi vogliamo dare una soluzione chiedendo ai cittadini di lasciare a casa l'automobile anche di notte. Il servizio potrà essere utilizzato munendosi di regolare il biglietto unico Napoli o con gli abbonamenti delle varie tipologie. Lo stesso vale per le corse della linea 1 della metro e della funicolare di Chiaia che dal 9 tutti i venerdì e sabato di dicembre, tranne il 30, saranno prolungate fino alla mezza. Abbiamo fatto uno sforzo per cui si prolungheranno nei weekend e nel ponte dell'Immacolata, quindi a partire dal giorno 7 le funicolari fino alle 0.30 così pure la linea 1. Oltre il programma di Natale e di Capodanno, la notte di Capodanno, ci sarà un anno stop, quindi tutta la notte, quindi come nelle città europee che si rispettino.